Oh ma si proprio tutti sceli Veramente? E' la quarta persona che me lo dice da stamattina Ma è grave eh? Oh è normalissimo Ah meno male Ma cammini, cammini sceli Oh Sì Siamo trasi prima a me, no? Come facciamo trasi prima a me? Ah va va Nino guarda che c'è quel lavoretto da fare su dalla baronessa Dalla baronessa vado io Allora io vado dalla signora Mariana Va beh fate come dovevi fare a voi Sì Ah apriamo Come si apre questa scenzione? Ma così Ma no Ma ti dico pure a me Oh mamma Ma non sale questa scenzione? Sì Non sale perché mesi troppo Guarda come sale Iscrivito